Buona a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Scusateci tantissimo se non abbiamo potuto registrare in questi giorni perché avevamo problemi di wifi. In questo video io e Luca vorremmo farvi vedere alcuni nerf che ci sono arrivati durante questo periodo. Altri sono oggetti, cioè non sono nerf però sono... C'è uno spoiler! Il Dettotopper ha un calcio e una panna. Di colore è blu e arancione. Il caricatore contiene 12 dadi. Adesso devi sparare 3-4 dadi. Primo colpo. Grande. Grande. Il prossimo nerf è la Fire Strike. L'abbiamo presa in blu perché era bella. C'è altri colpi. È un colpo in canna. Ovviamente c'è il puntatore dominoso. e si carica da dietro e poi ci sparo. Adesso lo sparo, sono in colpo però perché se no non si viene troppo lungo. Il prossimo nerf che vi mostrerò è questo. Non mi ricordo di nuovo perché è difficile, cioè non riesce. Sì, sì. Sì, sì. Alla ricarica a pompa. Normalmente lo posso sparare. Sparerò molto perché questo cambia direzione da solo. Sì. Come vedete? Sì. Allora, la prossima, che vi mostrò un video. sono 30 colpi e litto perché ci servono e due caricatori che sono l'unico perché praticamente è in più i colpi che riempi tutti e due caricatori e quando finisci un caricatore lo cavi e gli rimetti l'altro ok è così, è molto bello praticamente ti spari, spari, spari oh no, finisci i colpi G e spari ma perché? spara anche già il caricatore, guarda vabbè adesso lo tocca la via ok ragazzi io vi farò vedere la micro shot micro shot dai 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 è della serie micro shot andremo a testarlo da l'altro assomigli dovrebbero rappresentare questo il miniaturo sì infatti troppo bello ok il prossimo oggetto è ultimo è la maschera Rival dove va andata? ecco la ma basta ecco secondo me gli sta bene scriveteci nei commenti se sta bene o male e scrivete anche nei commenti se vi piace questo punto dove facciamo i video ora Davide testerà se regge davvero ragazzi ci siamo e ho un po' paura vai vai da più lontano così mi prendi vai 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 continuo oh o di contro difetti aia scusi ah finito è stato bruttissimo cioè perché comunque l'impatto lo senti però Cioè è brutto comunque prendere un colpo di fatta, ma almeno è la massa che ti protegge. Per farci ringraziare avremo... Perdonare. Perdonare. Dai, dai. Avremmo pensato di fare una nerf war. Ah, è bello che sì. Gameplay è finito. Beh, peccato che non durerai molto. Ok, li abbiamo uccisi tutti, manca soltanto il nostro obiettivo. Bene, bene, bene. Cosa volete da me? Ci devi dare le nostre caramelle. Non ce l'ho, non ce l'ho. Sì, ce li hai, ti uccidiamo. Nella borsa. Nella borsa. Allora se lo sapete perché le volete da me. Perché non sappiamo la borsa. Perché non sappiamo dov'è la borsa e in quale posto della borsa. Sparli. Prendile. Veloce. 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 Ah, mia. Non mi sparate. Non mi sparate. Allora sbrigati. Allora sbrigati. È ancora poco tempo. Sarà meglio che la trovi. Se no. Fai una bontà. È meglio che non so. Dacci le caramelle. Alzo le mani. Dacci le caramelle. Le caramelle. Non mi sparate. Non mi sparate. Mi gioco. Mi do. Mi do. Vuoi darci? Dove so. No. Dove so. Vai. Non mi trovo. Vuoi un primo proiettile? Sbrigati. Mi sto trovando. Mi sto cercando. L'hai voluto te. Vuoi un primo proiettile? Bingo. Bene. Ora è meglio che scappi. Se no farei una brutta fine. La fai comunque. Le caramelle le abbiamo trovate. E direi che i video sono buonissime. Possiamo concluderlo qua. E ci vediamo con un prossimo video. Lasciate un mi piace e iscrivetevi. Mi raccomando. Ciao. Ciao.